Cosa succederà nella quarta puntata de «La ragazza e l'ufficiale» in onda il 30 giugno su Canale 5? Scopriamolo assieme. Sura, preoccupata per Tatia che non sta bene, cerca di sincerarsi in merito al suo stato di salute. Tatia appare pallida, poi ha un malore e ha una forte emorragia. Sura, sempre più spaventata, grazie all'aiuto di Celil chiama subito un medico il quale provvede ad intervenire prontamente per soccorrerla. Sfortunatamente l'emorragia porterà a un aborto. Sura è sotto shock, in quanto temeva che Tatia potesse morire. Petro aiuta Sura, come è solito fare, in quanto innamorato di lei, e Sura vorrebbe Sei al suo fianco, ma l'uomo è andato a trovare la sua famiglia. Sei accenna ai familiari che si è fidanzato e rivela l'identità della ragazza, ma il padre di lui si arrabbia e gli impone di non frequentare più ragazze russe. Sei quindi fugge dalla fattoria per poter riflettere sulle dure parole del padre. Sura è ignara di tutto ciò, e Petro la rassicura dicendole che i familiari di Sei la accoglieranno a braccia aperte, anche se a tempo debito. In Crimea, sempre più uomini tra la popolazione abbandonano il lavoro nei campi per unirsi ai sovversivi. Mehmet Eminov, già infuriato dal comportamento di Sei che ha portato a casa una ragazza russa ignorando il suo volere, è sempre più preoccupato per la situazione ed è pronto a difendersi. Anche Mamut è in ansia. Continua a pensare di fuggire con Hava ed esprime il suo disappunto per il fatto che Mehmet abbia ripudiato Sei. Intanto, alla casa nel vigneto in cui soggiornano temporaneamente arriva Petro, proprio appena dopo un evento terribile e improvviso che mette in pericolo la vita di Tatia. Riferisce ai suoi amici di avere notizie di Misa, cioè che è diventato un capo dei ribelli e si sta dirigendo verso la Crimea, ma in realtà continua ad agire sotto copertura usando il suo nome, e si presenta ai sovversivi del luogo proponendo loro di tendere un agguato a Sei. Il tenente Sei, Celile e Petro decidono di andare, per alcuni giorni, nei villaggi circostanti, in cerca di armi, ma durante il loro viaggio, i tre amici troveranno delle difficoltà da dover affrontare. Intanto, in casa Eminov, il fratello piccolo di Sei, Osman, prende la decisione di portare al fratello tutte le lettere che ha ricevuto durante i mesi in cui è stato al fronte, nonostante il padre abbia severamente vietato a tutti i componenti della famiglia di andare nella casa dove è ora Sei, perché non vuole che nessuno di loro abbia niente a che fare con Sura. Il figlio piccolo, però, proverà comunque ad andare di nascosto a trovare il fratello, ignaro di cosa comporterà questa azione per tutta la famiglia. Guzide, invece, origlia di nascosto una conversazione tra Fatma e Ildiz, e prenderà una decisione drastica al riguardo. Mamut anche prenderà una decisione importante per lui e la sua famiglia, nonostante i vari rischi che potrebbe comportare. Per non perdere le prossime anticipazioni, iscriviti al canale.